Assessore Santorelli, torna alla Festa dei Fiori, un appuntamento importante per la città che questa amministrazione ha voluto rendere un evento d'accoglienza per cittadini turisti che parteciperanno a questa iniziativa. Sì, è un'iniziativa svolta insieme agli operatori del settore che ogni anno partecipano sempre con grande piacere e colorano i giardini del Pincio e la zona dell'Arco d'Augusto. È un'iniziativa molto apprezzata da tanti fanesi e anche dalle persone che sono in città per il prossimo weekend e per il weekend solitamente della Festa dei Fiori. È un appuntamento importante che abbiamo cercato di arricchire anche con l'animazione giochi per i bambini così che può diventare un momento di svago per tutte le famiglie. Ricordiamo le date di questa manifestazione? La Festa dei Fiori inizierà domani, giovedì, dando la possibilità di fare il mercatino agli operatori poi ci sarà un'apertura ufficiale venerdì mattina alle ore 11 e quindi andrà avanti per tutto il weekend.